De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Nessuna volontà di scontro, né a ricerca di visibilità mediatica. Così Luciano Passariello, presidente della commissione regionale d'inchiesta sulle partecipate, replica la nota di Norberto Vitale, nella quale, a proposito dell'ormai decennale incompiuta vicenda dell'autostazione AIR di Avellino, si sottolineava che anche da sopraluogo compiuto, ma in quel discorso, non erano arrivate certezze su responsabilità pregresse e soprattutto su cosa anche la regione intende mettere in campo per completare i lavori e rendere operativa la struttura. Tengo a precisare, scrive Passariello, che il sopraluogo della commissione regionale d'inchiesta sulle partecipate allo stazionamento AIR di Avellino non era finalizzato né a cercare lo scontro con l'amministratore unico, né tantomeno a ottenere visibilità mediatica. In qualità di presidente della commissione, era mia ferma a volontare Carmine sul posto, a verificare di persona le condizioni dello stabile con un unico obiettivo, ottenere risposte e trovare una soluzione a una vicenda vergognosa, lo ribadisco, che si portai da troppi anni. E infatti così è stato. L'ingegnere De Sio ci ha assicurato che per l'inizio 2018 riprenderanno i lavori e entro la fine dello stesso anno verranno anche completati. Sono convinto che questo era ciò che gli avellinesi avevano a cuore sapere, perché un'azienda con i conti a posto serve a poco se non presta servizi adeguati alla comunità. Detto questo, continua Passariello, sottopongo la sua attenzione tre quesiti che ritengo altrettanto importanti. Primo, come mai? Seppur re-invitati, nessun consigliere regionale eletto nella provincia di Avellino si è presentato sopra luogo o si è interessato alla vicenda? Secondo, perché in tanti anni di sprechi e sperpero di denaro pubblico nessuno ha mai gridato allo scandalo? Terzo, fosse il fatto che un non avellinese abbia fatto tutto ciò può dare fastidio? A me interessa dare risposte ai cittadini irpini, non fare polemiche inutili, vuote strumentali. Quelle le lasciamo agli altri, che evidentemente hanno più a cuore la visibilità personale della cosa pubblica. Cordiali saluti. Sin qui il presidente della commissione d'inchiesta, che ringraziamo per aver dato seguito alla nota del nostro telegiornale con toni e modalità civilissime. Sugli interrogativi posti non mancheremo di tornare, magari con lo stesso presidente Passariello, che su un punto vogliamo però rassicurare, quello che si è consumato in questi anni sull'autostazione è da tempo inserito nella lista, sempre pubblicamente denunciata da Telenostra, delle pubbliche vergogne.